Avevo preannunciato una manovra seria, meditata e coraggiosa e così è. Confidiamo che sia la ricetta giusta per consentire al Paese la crescita economica e lo sviluppo sociale. Punteremo molto e puntiamo molto sugli investimenti. Quindi la spesa che abbiamo prefigurato sarà destinata per buona parte agli investimenti. Quindi pensate, realizziamo il piano di investimenti pubblici più consistente che sia stato mai realizzato e previsto in Italia. Stiamo parlando di 38 miliardi spalmati in 15 anni e a questi andiamo ad aggiungere altri 15 miliardi nel prossimo triennio. Ovviamente perché si abbia l'effetto della crescita non siamo così ingenui, non è sufficiente soltanto stanziare delle somme. Abbiamo studiato a fondo il problema, quello che limita la crescita del PIL in Italia. I soldi delle volte abbiamo avuto difficoltà storicamente a spenderli. E' per questo che accompagniamo questa previsione di spesa con un programma elaborato di riforme.